Ciao, io sono Elsa. Quando ero piccola è successa una cosa terribile alla mia famiglia. Io, mamma e papà eravamo in vacanza su uno yacht. Un giorno è scoppiato un incendio a bordo e la barca ha iniziato ad affondare. Abbiamo cercato la scialuppa di salvataggio, ma eravamo separati da una spessa nube di fumo. In quel momento ho perso di vista i miei. Poi ho notato il ciondolo della mamma in terra, vicino alle fiamme. Ho provato a prenderlo, ma scottava e mi sono bruciata. La mamma mi ha urlato di scappare. Così sono saltata sulla scialuppa di salvataggio. Dopodiché ho dei ricordi confusi. Quando sono tornata in me ero in un orfanotrofio. La scialuppa di salvataggio aveva raggiunto la riva. Non ricordavo i volti e nemmeno i nomi dei miei genitori. E nessuno è mai riuscito a trovarli. Non avevo scelta. Ero costretta a rimanere in un orfanotrofio. Da quel momento ho vissuto in una piccola città sul mare. Avevo una cicatrice sul palmo. Un ricordo di quel giorno maledetto. Me ne sono sempre vergognata. E cercavo di nasconderla agli altri. Comunque avete notato che ho i capelli grigi? Ecco di che cosa parlerà la mia storia. Ma prima di tutto, iscrivetevi al canale. Lasciate like. E scrivetemi di che colore sono i vostri capelli. Nei commenti qui sotto. Quando avevo 12 anni mi è spuntato il primo capello grigio. Credevo di essere malata o qualcosa di simile. E mi si è agghiacciato il sangue nelle vene. Uno degli educatori mi ha portato in ospedale. I medici mi hanno visitata e mi hanno spiegato che non c'era niente di cui preoccuparsi. Elsa, questo è un raro tratto genetico. Probabilmente lo hai ereditato da tua mamma. Non me la ricordo. In ogni caso sei in perfetta salute. Sappi solo che con il passare del tempo i tuoi capelli diventeranno tutti grigi. Aveva ragione. Distinguermi dalla massa non mi piaceva. Gli altri bambini mi fissavano di continuo. I miei capelli grigi attiravano troppa attenzione. Ecco perché volevo tingerli di nero. Ma Glenn, un mio compagno di classe, mi ha fatto i complimenti. Elsa, i tuoi capelli sono bellissimi. Non tingerli mai. A quanto pare Glenn non era il solo a pensarla così. Infatti tutti mi fissavano perché ammiravano i miei capelli. Alcune ragazzine erano persino invidiose di me. Ho superato le mie insicurezze. E con il tempo ho fatto crescere i capelli e me ne sono presa cura. Il mio colore insolito mi ha resa molto famosa nella nostra cittadina. Mi seguivano tutti sui social. E su internet c'erano persino degli articoli che parlavano di me. Io e Glenn, dopo anni di amicizia, ci siamo messi insieme. Non mi ero mai sentita così in sintonia con nessuno. Stava andando tutto bene. Finché non ho compiuto 18 anni. Avrei dovuto lasciare l'orfanotrofio e andare a vivere da sola. Sapevo che quel giorno sarebbe arrivato. Ero in difficoltà perché non sapevo dove andare. Mentre stavo facendo le valigie, i signori Jenkins sono venuti da me. Mi hanno detto che avevo una nonna. E che erano suoi amici da tanti anni. Tua nonna è la signora Olsen. Vive a Waves e ti sta cercando da anni. Sarà qui molto presto e potrete finalmente conoscervi. Puoi restare da noi finché non trovi un posto dove andare. Ero al settimo cielo. A quanto pare avevo trovato una famiglia. Aspettate, come ha fatto la nonna a scoprire che sono qui? Ha letto un articolo su di te e ci ha chiesto di tenerti d'occhio fino al suo arrivo. La proposta dei signori Jenkins era troppo allettante. Non potevo rifiutarla. Così ho deciso di restare da loro mentre aspettavo l'arrivo della nonna. Per mia sorpresa, il mio ragazzo pensava che il loro comportamento fosse sospetto. Qui non mi torna qualcosa Elsa. Non mi fido di loro. Ah dai, che cosa potrebbe mai succedere? Mi sono trasferita a casa dei signori Jenkins. E ho conosciuto Miranda, la figlia. Era bellissima e partecipava a tutti i concorsi di bellezza locali. Ma aveva un caratterino particolare. Hai visto tutti quei trofei? Significa che in questa casa sono io la star. Non provare a rubarmi il posto. Che bei trofei! Comunque rimarrò qui solo finché non arriverà mia nonna. Quindi puoi anche rilassarti. Ti tengo d'occhio. Quella pazza si comportava come se i signori Jenkins stessero dando tutte le loro attenzioni a me. Anche se in realtà erano solo degli ottimi padroni di casa. Miranda continuava ad arrabbiarsi perché pensava che fossero troppo gentili con me. Un paio di giorni dopo è tornata a casa dopo l'ennesimo concorso di bellezza. Ed era furibonda. I giudici sono degli idioti! Hanno fatto vincere un'altra ragazza! La fortuna aveva voltato le spalle a Miranda che ha iniziato a perdere sempre più spesso. Un giorno mi ha lanciato un'occhiata che mi ha fatto venire i brividi. Devo sorprendere i giudici e per qualche motivo tutti adorano i tuoi capelli. Sa come fare? Ha deciso che si sarebbe tinta i capelli di grigio, sperando di riconquistare così il primo posto. Ma qualcosa è andato storto. Invece di un bellissimo colore argento, i suoi capelli sono diventati verdi e ha iniziato a perderli acciocchi. Li aveva rovinati. Quella poveretta aveva un pessimo aspetto ora. Persino una persona tanto cattiva come Miranda non meritava una cosa simile. Ma la cosa assurda è che ha dato la colpa a me. Non potrò partecipare a nessun concorso di bellezza finché non mi ricrescono i capelli. Ed è tutta colpa tua! Te ne pentirai! Stai scherzando? Sei stata tua a deciderli di tingerli, io non c'entro niente. L'ho fatto solo perché ero stanca di sentire apprezzamenti sui tuoi capelli. Volevo che le persone guardassero anche me. Miranda aveva pagato cara la sua invidia. Non sapeva con chi prendersela e quindi se l'era presa con me. All'inizio mi ha fatto solo qualche scherzo perfido. Ma poco dopo ha sostituito il mio shampoo con una tinta verde. E poi mi ha persino incollato una cicca tra i capelli. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Smettila! Sei patetica! Perché? Che cosa pensi di fare? Andrei a piangere dai miei genitori? Sono cresciuta in un orfanotrofio e non ero abituata a chiedere aiuto agli adulti. Ma non potevo nemmeno permettere a Miranda di trattarmi così. Così ho chiesto un consiglio alla persona di cui mi fidavo di più. Glenn mi ha promesso che avrebbe convinto Miranda a lasciarmi in pace. Me ne occupo io. Puoi sempre contare su di me. Non so che cosa Glenn abbia detto a Miranda. Ma dopo la loro chiacchierata, lei è tornata sui suoi passi. Prima che potessi tirare un sospiro di sollievo. E il mio ragazzo è sparito dalla circolazione. Doveva essermi successo qualcosa. Non era mai online. E ha smesso di rispondere alle mie chiamate. Ero preoccupata per Glenn. Così sono andata a casa sua. Perché non rispondi a quel maledetto telefono? Ho dovuto venderlo. Avevo bisogno di soldi. Ho fatto per entrare e volevo chiedergli che cosa era successo. Ma Glenn non me l'ha permesso. Mi dispiace Elsa. È meglio se parliamo qui fuori. I miei genitori hanno venduto tutti i mobili. E non abbiamo più nemmeno un posto dove sederci. Non voglio che vedi in che condizioni siamo. Ci siamo seduti sotto al portico. E lui mi ha spiegato che il padre si era indebitato. Alla fine, la sua famiglia aveva dovuto vendere praticamente tutto ciò che possedeva. Non abbiamo più niente. E non siamo nemmeno riusciti a ripagare tutti i debiti. Se non troviamo i soldi in tempo, potremmo perdere la casa e diventare dei senza tetto. Cavoli. Glenn, vorrei fare qualcosa per aiutarti. Ma non ho tutto quel denaro. Elsa, hai qualcosa in più dei soldi. E i tuoi capelli? L'ho guardato con aria persa. E poi Glenn è arrossito e mi ha spiegato che Miranda avrebbe voluto comprarli per farsi una barrucca. Il guadagno potrebbe salvarci. Ma dovresti fare un sacrificio, ecco. Non era facile. Ma mi sono fatta coraggio. Glenn, li taglierò per te. Elsa, sei il mio angelo custode. Siamo andati a casa dei Jenkins e con mani tremanti ho tagliato il mio più grande tesoro e ho consegnato i capelli a Glenn. Dagli li tu. Non voglio vedere il suo sorrisino soddisfatto. Mi ha abbracciata forte e mi ha lasciata davanti allo specchio. Ora sembravo proprio un ragazzo. Essere sempre al centro dell'attenzione per via dei miei capelli era diventato abbastanza stancante. Inoltre non mi piaceva nemmeno essere invidiata. Così ho deciso di provare qualcosa di nuovo. E ho tinto di nero quel pacco che era rimasto. Quando i signori Jenkins mi hanno vista, hanno spalancato gli occhi. Sembravano sconvolti. Elsa, che cosa ti è successo? Ha venduto i capelli a vostra figlia perché voleva farne una parrucca. Si sono arrabbiati, hanno chiamato Miranda e gli hanno chiesto una spiegazione. Lei ha confermato con calma e ha mostrato ai suoi la parrucca. I Jenkins hanno perso la testa. Ragazzina viziata! Hai idea di quello che hai fatto? Ma ora posso ricominciare a partecipare ai concorsi di bellezza? Hai rovinato il nostro piano! Mi sono preoccupata, ho chiesto loro di quale piano stessero parlando. I Jenkins non assomigliavano più alla dolce coppietta a cui ero abituata. Mi hanno risposto a tono e mi hanno detto che la signora Olsen non era mia nonna. Quella ricca signora stava cercando la nipote da anni e prometteva addirittura una ricompensa in cambio di qualsiasi informazioni. Tutte le donne della famiglia Olsen avevano i capelli grigi. Quando i Jenkins lo avevano saputo, avevano deciso di fregare l'anziana e di convincerla che ero io la nipote per ottenere la ricompensa. Non sarebbe mai riuscita a recuperare i soldi nemmeno se avessi fatto un test del DNA. Che delinquenti! Sarà qui tra un minuto, ma non potremmo fregarla perché ti sei tinta ai capelli! Ho un'idea! Elsa, metti la parrucca e stai al gioco! Tu diventerai una ricca nipote di tiera, ma anche noi guadagneremo un po' di soldi. In questo modo vinciamo tutti! Beh, non mi sembrava una vittoria. Non potevo lasciar perdere, era ingiusto! Quando ho capito che avevo perso l'unica speranza di riunirmi alla mia famiglia, mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. Siete i peggiori! Dopodiché sono uscita di corsa e sono andata a cercare Glenn. Mi aveva detto che non dovevo fidarmi dei Jenkins. Mi aveva ragioni. Ma a quanto pare avevo sbagliato anche con lui. Il padre di Glenn mi ha aperto la porta e mi ha fatto entrare. Immaginate la mia sorpresa. Quando ho visto che la casa non aveva niente di strano. I mobili c'erano tutti. Com'è possibile? Non avevate venduto tutto per pagare i debiti? Ha alzato le spalle confuso e ha detto che non sapeva di quali debiti stessi parlando. In che senso? Glenn è venuto da noi. Mi ha afferrata per il braccio e mi ha presa in disparte. Dobbiamo parlare. Basta scherzi. Se non avevi bisogno di soldi, perché mi hai fatto tagliare i capelli? Glenn ha allontanato lo sguardo e mi ha detto che aveva ideato un piano insieme a Miranda. Lei gli aveva detto che i Jenkins mi stavano usando per ingannare la signora Olsen. Miranda non voleva che io ereditassi quella fortuna perché mi detestava. Mentre Glenn non voleva che diventassi ricca e che lo lasciassi per andare a Wales. Mi dispiace. L'ho fatto per noi. No. L'hai fatto per te stesso. Mi hai tradita, Glenn. È finita. Me ne sono andata. E mi sono chiesta che cosa avrei fatto. Ora che sapevo che non potevo fidarmi di nessuno. Ho capito che volevo andarmene da quella cittadina. Così sono tornata dai Jenkins e ho deciso di stare al gioco e di fregare la signora Olsen. Ho messo la parrucca e ho aspettato che arrivasse. Sembrava un'aristocratica e anche molto severa. Ammetto che mi sono sentita un po' intimorita. Spero che voi non siate dei truffatori. Tantissime persone hanno provato a fregarmi e a spacciarsi per mia nipote. Quindi non aspettatevi la mia fiducia? A quanto pare il nostro piano era destinato a fallire. Ma quando la signora mi ha vista, gli si sono illuminati gli occhi. Mi ha preso il viso tra le mani ed è scoppiata in lacrime. Assomigli molto a mia nipote. Non sono solo i tuoi capelli. Hai anche i suoi occhi. Dopo tutti questi anni ti ho trovata, tesoro. Aveva funzionato. La signora Olsen era convinta che io fossi la nipote. Ha consegnato la ricompensa ai Jenkins. Poi siamo andati in hotel per conoscerci meglio. Abbiamo passato molto tempo insieme. Hai visto quella molletta? Era di mia figlia. Tua madre è uno dei miei tesori più grandi. È bellissima. Sono così felice di averti trovata. Ti trasferirei nella mia villa a Waze. E saremo felici. Sei la mia famiglia Elsa. Stavo contando i giorni impaziente. Volevo lasciarmi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita. Tuttavia temevo che Glenn o Miranda potessero rovinare tutto raccontando la verità alla signora Olsen. Una sera li ho incontrati insieme in un negozio. Probabilmente si erano avvicinati mentre mi stavano rovinando la vita. Sono andata da loro. E ho detto che gliela avrei fatta pagare se non mi lasciavano in pace. Smettila di fare l'innocente. Nessuno ti sta costringendo a mentire a quella donna. Vuoi solamente andartene da qui. Esatto. Tu non sei migliore. Ci assomigliamo più di quanto immagini. Sei una bugiarda proprio come noi. Ho sbuffato e me ne sono andata. Tuttavia le loro parole avevano lasciato il segno. Non avevano ragioni. La signora Olsen era così gentile con me. Tanti delinquenti avevano già provato a derubarla. E non volevo farlo anche io. Così ho deciso di dirle la verità. Sfortunatamente non ho affatto in tempo. Quando sono entrata nella stanza la signora Olsen è venuta da me e mi ha detto che voleva darmi la molletta di sua figlia. Ha provato a infilarmela nei capelli e mi ha staccato la parrucca per sbaglio. Mi sono ritrovata davanti a lei con i capelli neri e corti. È calato il silenzio. Mi sentivo il cuore in gola. Alla fine la signora Olsen ha grottato le sopracciglia e ha capito che era stata fregata di nuovo. Non è come pensi. Ho davvero i capelli grigi ma non sono tua nipote. Fammi spiegare. Che cosa c'è da spiegare? Sei una truffatrice. Non voglio sentire altre scuse. Tu e quei junkies dovete vergognarvi. Ha preso la valigia ed è uscita di colpo dalla stanza. Torna Wells. Ne ho abbastanza di tutte queste bugie. Era fuori di sé e anche io lo ero da quando truffavo le signore anziani. Mi sono seduta sul letto e sono scoppiata a piangere come una bambina. Ma poi ho visto la molletta sul pavimento. Era così importante per la signora Olsen. Dovevo restituirgliela prima che prendesse l'aereo. Sono uscita di corsa e mi sono precipitata in aeroporto. Non avevo i soldi per prendere un taxi e temevo di essere in ritardo. Fortunatamente sono riuscita a raggiungere la signora Olsen fuori dall'aeroporto. Aspetta! Hai dimenticato una cosa! Mi ha strappato la molletta dalle mani. E quando ha visto il mio palma è rimasta di stucco. Non mi piaceva quando le persone guardavano la mia cicatrice. Così ho cercato di nasconderla. La signora Olsen ha lasciato cadere la valigia e mi ha fissata con gli occhi spalancati. Come mai è quella cicatrice? Anche se mi faceva sentire a disagio. Le ho raccontato dell'unico ricordo che avevo della mia infanzia. Di quella gita in barca con i miei e della scialuppa di salvataggio. Mi sono bruciata con il medaglione di mia madre. Perché era troppo vicino al fuoco e scottava. Poi mi hanno trovata in una scialuppa di salvataggio in spiaggia. Mia madre e mio padre non sono mai stati ritrovati. Non ricordo nemmeno i loro volti. Alla signora Olsen si sono riempiti gli occhi di lacrime. E poi mi ha mostrato un medaglione. Era uguale a quello della mamma. Tutti nella nostra famiglia hanno questo medaglione. Guarda, sopra c'è il nostro stemma. Mia figlia è andata in vacanza su un yacht con il marito e la figlia. E non sono mai tornati indietro. Eppure io ho sempre saputo che mia nipota era ancora viva e che mi stava aspettando chissà dove. E sei tu, Elsa. Finalmente sono riuscita a mettere insieme i pezzi del puzzle. La cicatrice. Il ricordo dello yacht. Quel tratto genetico che rendeva grigi i capelli di tutte le donne di famiglia. La signora Olsen era mia nonna. Ci siamo abbracciate. E poco dopo ci siamo trasferite a Wales. Verso una nuova vita piena di felicità. La nonna mi ha mostrato le foto dei miei genitori. E alla fine mi sono sentita a casa. Ora so che a volte le cose brutte succedono per un motivo. Sono stata ingannata e tradita. E ho fatto un paio di cose di cui non vado molto fiera. Ma tutto ciò mi ha permesso di ritrovare la nonna. È tutto per oggi. Se non l'avete già fatto, lasciate like al video e iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.